Ciao, benvenuto sul mio canale. Io sono Daniele e se anche tu sei una persona che sa di valere molto di più di quanto pensa, sei nel posto giusto. Quindi, che cosa troverai nel mio canale? Troverai tanti video di digital marketing, business online, in particolare quello che sto facendo io, ovvero l'affiliate marketing. Troverai video motivazionali, quelli servono un sacco per partire carichi e affrontare la vita di ogni giorno, in modo diverso soprattutto. Video di crescita personale, quindi da come sono partito zero a piano piano al livello che sto arrivando, poco per volta, si parlerà anche di libri che leggo, vi porterò dei blog sui viaggi, quindi parleremo anche di viaggi in questo canale. Tutto questo perché voglio condividere con voi i miei traguardi, da quello più piccolo a quello che è più grande, tutta la mia storia e il processo, soprattutto quello che mi sta portando a cambiare la mia vita. Quindi vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti e se vi fa piacere questi contenuti e vederli nei prossimi video. Lasciatemi un commento qua sotto per dirmi chi siete, che cosa trattate, qual è la vostra nicchia, cosa fate nella vita. Qui sotto dalla estensione trovate tutti i miei link, Instagram, la mia chat privata Telegram e il link esclusivo per partecipare a una lezione gratuita su come costruire il vostro business online, lavorare online con le affiliazioni. E nient'altro, noi ci vediamo nei prossimi video. Grazie mille a tutti. Ciao!